Ciao a tutti ragazzi, io sono Fantomo, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video di Fallout 76. Quest'oggi vi farò vedere come affermare adesivo infinito, grazie a un oggetto creabile presso una cucina da campo. L'oggetto in questione è l'amido vegetale, un oggetto che potremo creare fin da subito, i progetti non vi faccio nemmeno vedere dove ottenerli, perché appunto sono facilissimi da trovare, ce li danno mi sembra anche dopo una delle prime missioni. Comunque in sostanza dovremo farmare i componenti per creare quest'amido vegetale. Per farmare i componenti vi consiglio di andare qua dove sto io, nella capanna di Fratelli Sunday, perché è una zona dove appunto ci staranno i componenti fondamentali per creare l'amido vegetale. Vi consiglio anche di equipaggiare Pollice Verde, che è un perk che ci fa raccogliere il doppio delle piante. Ok, una volta arrivati alla capanna ci dirigiamo di fronte all'edificio principale e qua come potete vedere ci sta un bel campo coltivato. Noi incominciamo a raccogliere tutto, perché in questo campo ci sta tutto quello che ci serve. Il Gran Turco, i frutti selvatici, i Tatos e il Grano Lama. Sono tutti i componenti che ci servono per creare l'amido vegetale. E in più, oltre a questi componenti vegetali, diciamo, ci servirà anche l'acqua purificata, che la possiamo ottenere completando missioni, eventi oppure semplicemente filtrandola. Ok, una volta che abbiamo ottenuto frutti mutati, Gran Turco, Tatos e acqua purificata, andiamo semplicemente in una cucina da campo e creiamo l'amido vegetale. Come potete vedere l'amido vegetale ci dà due di adesivo. Questo è un metodo molto semplice per avere adesivo infinito, diciamo, ai primi livelli. Poi, per riottenere appunto quelle piante che abbiamo usato per fare l'adesivo, vi consiglio di andare nel vostro camp e piantarle, in modo da ottenere costantemente materiali per creare l'amido vegetale. Altra cosa, se non riuscite a piantare le piante nel camp o non avete voglia, uscite dal mondo di gioco, rientrate come sempre, riandate sempre alla capanna dei fratelli Sandy, riprendete tutti i vegetali e fate di nuovo l'amido. Ragazzi, la guida finisce qua. Spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.